E' stato inaugurato questa mattina il tratto della strada provinciale Andrea Biceglie che negli ultimi due anni è stato interessato da lavori di allargamento e messa in sicurezza. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte tra gli altri gli ex presidenti della provincia Francesco Ventola e Francesco Spina e l'attuale presidente Nicola Giorgino. C'era un progetto preliminare della provincia di Bari, attuale città metropolitana di Bari, che è stato ereditato dalla provincia Barletta Andrea Trani e ha portato subito a compimento attraverso l'elaborazione delle fasi progettuali successive, era un progetto di 3.440.000 euro di cui 3 milioni finanziati dalla regione e 440.000 euro della provincia Barletta Andrea Trani. Dopodiché è seguito tutto l'iter procedurale per le relative autorizzazioni, l'appalto dei lavori è stato espletato nel 2016, consegnati i lavori il 6 settembre 2016, erano previsti 24 mesi di lavori se è concluso prima. La grande soddisfazione non solo è di aver concluso prima, ma anche di aver fatto lavori ulteriori, quali per esempio quelli prospicenti, una curva molto pericolosa che ha visto registrare tanti tragici eventi luttuosi, che è stata appunto allargata con la predisposizione di un guardrail identica a cui si è avvenuta in prossimità della direzione Bicelli-Andria, in direzione Andria, prospicente proprio l'ingresso della comunità di Andria. E questo credo che serva a migliorare la circolazione stradale, ma soprattutto serva a migliorare la sicurezza della circolazione stradale. I lavori hanno interessato solo una parte della strada provinciale, stante lo smantellamento di fatto che le province hanno subito, e grazie al contributo della regione che è stato possibile portare a termine questo importante lavoro. Che ora va completato, il cantiere, come affermato dal presidente della provincia Abbat Giorgino, è stato consegnato con alcuni giorni di anticipo rispetto ai 24 mesi previsti per la consegna dei lavori. Ma l'unica parte difficoltosa, quella che ha portato via più tempo, è stata nell'espianto degli ulivi per le porzioni di terreno espropriate. Il resto del tempo necessario lo si è letteralmente perso nella parte burocratica. Un dato per tutti. Con il venir meno del personale della provincia per ben tre mesi, questo cantiere è rimasto fermo perché è mancata la figura della direzione lavori. Se lo Stato snellisse tutte le procedure burocratiche, sei mesi sarebbero più che sufficienti per completare l'allargamento e la messa in sicurezza dell'Andria Biceglie. A mio avviso, dopo la sanità in un'amministrazione pubblica, viene la necessità delle infrastrutture, perché sono quelle che toccano tutti i cittadini comunque. Quindi massima attenzione in questo senso. Come dicevo prima, l'accessibilità a un territorio è fondamentale per l'economia del territorio, sia per i cittadini che vi abitano, che per i turisti, ma oltre ai cittadini anche per le attività economiche. E siccome la provincia Bat è una provincia ricca, con un tessuto sia agricolo che industriale molto ricco, la comunicazione tra le città è essenziale. Quindi questo asse, Biceglie e Andria, deve essere completato e lo sarà.